Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho sistemato le decorazioni nella stanza delle pozioni. Ho inoltre migliorato il meccanismo per creare queste pozioni aggiungendo la parte che fa entrare le bottiglie d'acqua automaticamente nell'alambicco e ho modificato il sistema per poter far uscire le pozioni utilizzando un corso d'acqua con del ghiaccio. Mentre stavo sistemando questa stanza mi sono venute in mente alcune idee e oggi andremo a realizzarle. Dunque per il lavoro di oggi ho bisogno di due comparatori che adesso vado a craftarmi. Allora facciamo così, poi mi serve della legna, prendiamo questa qua grezza e andiamo a preparare i comparatori. Allora facciamo così, oggi voglio fare qualcosa anche on camera, quindi andiamo a prendere sei di queste torce che saranno per i comparatori. Poi andiamo qua, facciamo con questo così e poi così e voilà. E ci siamo, se ne metto uno qua è così e qua in mezzo devo mettere il quarzo. E abbiamo i due comparatori. Poi mi serviranno gli hopper e quelli li ho già e due dropper. Allora prendiamo ancora i dropper, si fanno così. Le ho fatti già l'altra volta. Ecco qua. Allora possiamo quindi andare nella stanza e così posso spiegarvi, e dagli con queste uova che devo sistemare, posso spiegarvi che cosa voglio fare. In pratica voglio automatizzare la raccolta della Netherworld. Voi mi direte, ma Tech non è che sia proprio una cosa così indispensabile? Hai solo nove pezzi di Netherworld? Sì ragazzi è vero, non è indispensabile, però sapete che nel mio Let's Play vi insegno a fare anche dei meccanismi che poi potete riprodurre nel vostro mondo. E voi potreste avere un enorme posto dove c'è la Netherworld. Quindi io vi faccio vedere intanto come voglio fare. Prima di tutto dobbiamo preparare il pezzo per raccogliere la Netherworld. Quindi io vado a fare così. Tolgo questo cancelletto che potrei togliere benissimo così. Raccolgo la Netherworld. Ok. Perfetto. E la vado a mettere in questa cassa per il momento. Qui dentro ancora le cose dell'altra volta. E poi andiamo a togliere anche la Soul Sand. Quindi andiamo a togliere questa. Allora la Soul Sand, forse l'ho già detto altre volte, ha una particolarità. Ossia se noi buttiamo un pezzo di un blocco sulla Soul Sand e sotto c'è un hopper, l'hopper raccoglie questo blocco. E questa è una particolarità molto interessante. A questo punto devo iniziare a scavare qua un blocco perché devo mettere tutti quanti gli hopper. Allora facciamo così. Perfetto. Metto una torcia qui per farvi vedere un attimino. E anche qua devo aprire un attimino per fare il meccanismo. Ok, adesso non so quanto grande mi servirà questo posto. Non è grandissimo il meccanismo. È più o meno simile ma fatto in maniera diversa a quello che ho utilizzato qua dove c'è l'alambicco. Allora, andiamo innanzitutto a mettere qua un dropper che sarà quello che mi farà salire la Netherworld che avrò raccolto e che andrò a mettere poi in una cassa. Ne mettiamo uno qua e direi anche un secondo qua. In questa maniera la cassa la potrò posizionare in questo punto. Poi da questa parte invece devo andare a fare un lavoro con tutti quanti gli hopper. Ne ho ben 12 quindi posso mettere uno perché entra in questo dropper e tutti gli altri che entrano nei vari hopper per poter arrivare dentro lì. Quindi facciamo questi due così, questo lo facciamo così, ok? E poi questo e questo. Quindi se un oggetto entra in uno qualunque di questi hopper alla fine finisce nel dropper che c'è qua sotto. E poi possiamo andare a rimettere la soul sand come era prima. Ok, adesso vi faccio vedere che questa cosa funziona. Se non tolgo questa qua male, ecco è andata sotto così vi faccio vedere come funziona qua sotto. Ecco qua, nel nostro dropper. Quindi adesso andiamo a posizionarla giusta. Benissimo, ci siamo. A questo punto dobbiamo fare il meccanismo per poter portare la netherworld che è qua in quest'altro dropper e nella cassa che adesso non so se ho già qua una cassa. Vediamo se ne ho una di scorta. No, però ho la legna quindi me la crafto. Pensavo di averne una in più di cassa. In realtà non ce l'ho. Eccola qua. Perfetto. E la andiamo a posizionare qua. In questa maniera tutto finirà qua dentro. Allora, il meccanismo è abbastanza semplice. Dobbiamo creare una specie di item elevator simile a quello che abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi mettiamo qua un comparatore che ovviamente si accende quando qua arriva qualche oggetto. Poi qua andiamo a fare una cosa del genere. Mettiamo un pezzo di cobblestone. Anzi qua ragazzi, lo sapete, precisione massima si mette la cobblestone. Se no poi mi dite che non lo faccio. Poi mi servono delle torce di redstone. Me ne servono tre. Ok. Prendiamo le torce di redstone. Ne mettiamo una qua. E qua facciamo una cosa un pochino strana. Ossia mettiamo due hopper uno in faccia all'altro. Allora, quindi questo per adesso lo metto così. Questo così. E questo lo mettiamo così. Ok. E qua dentro andiamo a mettere un blocco che per il momento non si sposta perché c'è questa torcia di redstone che blocca il nostro hopper. Quando si accende ovviamente il comparatore la torcia si sposta e cosa succede? Il blocco che c'è dentro qua passa in quest'hopper. Passando in quest'hopper possiamo leggere il contenuto attraverso quest'altro comparatore. Poi andiamo a mettere un blocco di cobblestone. Poi andiamo a mettere una torcia di redstone. Poi andiamo a mettere qua un blocco normale. Sono costretto a mettere questo tipo di blocco perché qua è pavimento e quindi si vedrebbe. E qua andiamo a mettere un'altra torcia di redstone. Ok. In questa maniera abbiamo la possibilità di far azionare entrambi i nostri dropper. Quindi se io metto un oggetto qua, per esempio la mia spada. Ok. Qua fa il giro la redstone e la spada la ritroviamo, come vedete, nella cesta. Chiaramente questo è un loop che si ripete. Se abbiamo più oggetti ne metto due, va due volte questa cosa e quindi entrambe arrivano là in alto. Ragazzi, molto semplice. Ho dovuto fare questa soluzione anziché quella che avevo usato là in fondo perché quella richiedeva che io mettessi una torcia di redstone in vista. Cioè doveva esserci qua una torcia di redstone al posto di questo blocco. E quindi o mettevo un blocco sopra e rovinavo quindi la simmetria di questa iuola oppure lasciavo aperto e quindi si vedeva nel meccanismo. Cosa che ovviamente io non voglio fare. A questo punto posso richiudere tutto quanto. Io direi che qua possiamo mettere dei blocchi normalissimi in questa maniera, così abbiamo fatto la lavorazione giusta. Qua anche. E qua sopra possiamo lasciare tutto aperto qua sotto. Tanto non dovrebbero spawnare mob. No, non possono spawnare mob perché è buio. Quindi, cioè è buio, è solo alto un blocco. Ok, qui doveva esserci quello lavorato, se non mi sbaglio. Eccolo qua. Abbiamo avanzato anche un hopper. Ok, il lavorato lo mettiamo qua e andiamo a chiudere con la nostra pietra. Ok, adesso dobbiamo invece andare a fare il meccanismo per poter cogliere automaticamente la netherworld. Quindi utilizzerò ovviamente l'acqua che farò scendere dal soffitto qua. Vado a prendere il necessario perché mi servono dei dispenser e anche dei secchi d'acqua. Ok, ho preso tutto il necessario. In questo periodo sono in vena di utilizzare gli hopper. Allora, volevo innanzitutto sostituire questi due cancelletti laterali e mettere delle fence perché preferisco, ah ce le ho già qua, avere solo una parte d'ingresso a questa mini farm. In questa maniera io arriverò qua, azionerò il meccanismo per poter prendere automaticamente la netherworld. Poi potrò entrare, piantarne dell'altra prendendola da qua. E ovviamente questa cassa sarà a disposizione per il meccanismo delle pozioni. Adesso devo andare ad aprire la parte superiore qua per fare tutto quanto il meccanismo. Devo fare una cosa... Eeeh! È andata tutta dentro lì, va bene, poi la recupero nella cassa. Devo fare uno scavo abbastanza alto, in circa sei blocchi se non mi ammazzo qua con questa cosa. E poi posso andare a preparare il meccanismo con tutto quanto. Allora faccio questa cosa off camera e ci vediamo tra poco. Benissimo, ho scavato qua tutta quanta la zona, come vedete è abbastanza ampia, però non occuperà tutto questo spazio il meccanismo. Quello che voglio andare a fare adesso è un meccanismo che serve per azionare due volte un dispenser con dentro l'acqua, in modo che l'acqua esca e rientri automaticamente, semplicemente andando a premere un singolo pulsante. Allora andiamo a mettere un blocco qua, che sarà quello dove sotto andremo a mettere il pulsante. Poi qua dobbiamo mettere un po' di torce di redstone, direi di farne tre, così. Ok. Ne mettiamo una sopra qua. Poi andiamo a mettere della cobblestone. Poi qua andiamo a mettere una torcia di redstone. Dell'altra cobblestone sopra questa torcia di redstone. Adesso salgo. Così. Poi adesso vado qua comodamente. Mettiamo un'altra torcia di redstone qua. Qua sopra andiamo a mettere un altro blocco di cobblestone. E qua possiamo andare a fare il nostro circuitino per poter dare appunto questo doppio impulso. Per farlo utilizziamo gli hopper. Allora mettiamo prima un hopper provvisorio qua e uno così. Quest'altro, un po' come abbiamo fatto sotto, lo andiamo a riposizionare addosso a questo. E qua dentro andiamo a mettere un blocco qualunque. Come vedete il blocco non si muove perché è bloccato da questa torcia di redstone. Si muoverà nel momento in cui vado a premere il pulsante. Dopodiché dobbiamo andare a leggere il contenuto di questo hopper. E lo facciamo utilizzando un comparatore. E quindi andiamo qua. Mettiamo il comparatore in questa posizione qua. E qua un altro blocco di cobblestone così. Qua sotto a questo blocco di cobblestone andiamo a mettere il nostro dispenser con dentro ovviamente il secchio d'acqua che metteremo dopo. Adesso dobbiamo fare in modo che l'acqua esca dai quattro angoli. Quindi qua sotto andiamo a mettere un blocco in questa maniera qua. Così. Ok. E qua dobbiamo proteggere un attimo questa parte dove c'è la torcia. Scusate, la lampada. Perché altrimenti appunto la lampada va a... Cioè, va a togliersi diciamo la leva se passa l'acqua lì. Allora, quindi facciamo così. E mettiamo un'altra cosa. Non questo. Così. Perfetto. E anche di qua mettiamo il blocco così. In questa maniera l'acqua uscendo andrà a finire solo in questi quattro buchi qua. Adesso, ragazzi, vado a sistemare un attimo togliendo tutti questi blocchi qua. Tolgo le torce e poi finalmente possiamo provare. Ed ecco qua ragazzi il meccanismo completo. Vi faccio vedere. Qua c'è il cancelletto. Come vedete qua ci sono i buchi dove uscirà l'acqua. Da fuori non si vedono tanto, quindi direi che ci sta perfettamente la cosa. Qua nella cassa per il momento non c'è nulla e ho piantato della Netherworld per farvi vedere. Ora dobbiamo mettere il bottone. È importante che il bottone sia di pietra, altrimenti il meccanismo come l'ho fatto io viene azionato tre volte e non due e quindi non funziona. E dobbiamo metterlo sotto questo blocco qua. Ok ragazzi, proviamo adesso a far funzionare il meccanismo. Dovrebbe arrivare l'acqua, perfetto, è andar via automaticamente e la Netherworld dovrebbe entrare tutta quanta all'interno di questa cassa. Eccola qua, nove pezzi di Netherworld. Ovviamente non era ancora cresciuta, quindi non potevo ovviamente prenderne di più. La cosa che farò poi è andare a ripiantarla e quindi continuare la produzione. Bene ragazzi, direi che a questo punto il lavoro qui nel laboratorio posso considerarlo concluso. Ho cercato di fare del mio meglio per mettere quanti più meccanismi possibili e devo dire che il risultato non è affatto male. Abbiamo anche aggiunto delle funzionalità che prima non avevamo. Quindi sono molto soddisfatto e spero che piaccia anche a voi. Adesso, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo, volevo rendervi partecipi di un piccolo esperimento che stavo cercando di fare. Solitamente queste cose le faccio off camera, ma visto che abbiamo un po' di tempo, volevo rendervi partecipi di questo piccolo esperimento. Stavo andando nella palude per provare un prototipo di mini farm di slime ball. Sapete che ogni tanto ho bisogno delle slime ball per fare i pistoni appiccicosi oppure per fare gli slime block. E quindi volevo preparare questa mini farm che ora non sarà assolutamente automatica. Sarà totalmente manuale, però volevo provare il concetto che avevo pensato. Allora, qui, che c'è una bella area aperta dove esponono sicuramente le slime, volevo fare una buca, così, e lasciare il centro con 3x3 blocchi. Vediamo, sono troppo in qua, mi sa. Devo spostarmi un po' più il centro, se no non va bene qua. Ok, lasciamo i 3x3 al centro. Naturalmente questa non è una pala, ma è una specie di draga che rompe tutto quanto, ma noi non ci preoccupiamo. E qua andiamo a usare i magma block. Sapete che un mob o anche il giocatore su magma block prende danno. E quindi, se le slime dovessero salire su questi blocchi, e lo fanno, perché a differenza di altri mob che cercano di evitarli, le slime forse sono meno intelligenti e quindi non badano a questo, salgono su questi blocchi e a un certo punto muoiono. Quindi voglio fare due file di questi magma block, direi così, ok. E qua al centro però devo mettere qualcosa per attirare le slime. E per farlo utilizzerò un golem di ferro. Naturalmente il golem di ferro non attira solo le slime, ma anche gli altri mob. Pertanto dovrò un attimino proteggerlo per evitare, per esempio, che venga frecciato dagli scheletri. Allora facciamo il giro completo con i muretti di pietra così. E sopra faccio un giro anche con le fence. In questa maniera i golem di ferro dovrebbero essere protetti dalle frecce degli scheletri. Mettiamo i blocchi di ferro qua. Allora vediamo se ci riusciamo. No, devo scendere, accidenti. Allora facciamo il golem così, poi usciamo lo stesso. Ah no, ne servono quattro. Quattro ne servono, tech, non tre. Quattro facciamo sponare il nostro golem di ferro facendo così, ok. E adesso usciamo tranquillamente. Tu non uscire, anzi stai lì, mi raccomando. Ok, a questo punto dobbiamo attendere la notte perché, secondo me, le slime andranno verso il golem di ferro. Quindi saliranno su questa parte qui di magma block, prenderanno danno e moriranno. A quel punto potremo andare a recuperare le slime ball. Chiaramente questo non è per niente automatico, però, ragazzi, è una prova. Allora ragazzi, là c'è una slime che si sta avvicinando al golem. Vediamo un po', ecco, forse il ragazzi l'ha visto, l'ha visto, guardate, 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 guardate. Ecco, sta prendendo danno, sta prendendo danno perché cerca di attaccarlo. Boom, muore, boom, muore. E a quel punto lì dovrebbero esserci delle slime ball, vediamo. Allora andiamo a vedere. Sìììì, eccole qua ragazzi, due slime ball. Ha funzionato, perfetto. Naturalmente qua dovrebbero poi sponare altre slime. Certo, dobbiamo stare qua, quindi magari vivere qua nella casetta della strega AFK per poter far funzionare la farm. Però sembra andare, ragazzi. Va bene, farò altri esperimenti off camera. Adesso torno a casa perché qui è veramente buio e non vedrete sicuramente nulla. Ciao Enderman. E ci vediamo sulla torre per rispondere a una delle vostre domande. Bene, direi che l'esperimento è riuscito. Non vi assicuro e non vi prometto che questa diventerà una farm di slime ufficiale. Però ho voluto mostrarvi un attimino come lavoro off camera, quindi facendo questi esperimenti. Naturalmente dovesse diventare ufficiale dovrò mettere degli automatismi, cercare di migliorarla anche esteticamente. Però già questo è un punto di inizio. E passiamo ora alla domanda di oggi, che ho ripescato perché avevo lì da un sacco di tempo. Me la pone Andrea, che ovviamente saluto, e che mi chiede Tech, hai qualche sogno particolare che non hai ancora realizzato? Allora, sono tanti i sogni che non ho ancora realizzato, però uno in particolare a cui tengo molto è quello di riuscire a visitare quanti più paesi nel mondo. Mi piace moltissimo viaggiare e questa settimana, in questo momento, mentre state vedendo questo video, sono via per un viaggio, ve l'ho spiegato la scorsa settimana. Ogni anno cerco di organizzarne uno e cerco di andare nei posti più affascinanti della terra. Chiaramente sono ben cosciente che sarà impossibile visitare tutto il mondo, vuoi perché alcuni paesi sono difficilmente raggiungibili, vuoi perché alcuni sono molto pericolosi, però voglio cercare di vedere quanto più possibile, perché ragazzi è veramente bellissimo conoscere nuove culture e vedere nuovi ambienti, perché nel mondo ci sono cose veramente fantastiche. Con questo non voglio dire che l'Italia non sia bella, anzi, però dato che sono ancora giovane e in forze, voglio cercare di visitare il mondo, cosa che sarà più difficile quando sarò un po' più in là con l'età e quindi poi mi dedicherò all'Italia, che ho comunque visitato e non poco, però ci sono veramente ancora tantissimi posti che non ho visto e quindi spero di riuscire a visitare tutto quanto. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio che spero vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like ed iscrivetevi al canale, a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio! Ciao a tutti!